Vabbè, che c'è? Ti ho colpito, perché ti ho colpito? Ti ho colpito, perché ti ho colpito? Mi è stato rotto tutto! Vieni, Moro! Morlo! Sono via! Buonasera, Liezzaro! Ma scusami! Deve lasciatemi stare! No, Liezzaro, fa qualcosa! Ho tirato l'uova completamente a casa! Ma fa che io parto via sempre, come in Team Rock? Ah, sono fuori dal tunnel! Qui c'è! Ah, quello è uno smash! Ma perché non salta? Ho premuto Y, ho fatto l'uovo e ho preso giù di sotto, scusa! Che cosa succede? Questo è stupido! Non sei preso, cretino! Ma questa cosa sta morendo poi, quanto dura! Che esplosione di sederi! Dovete lasciarmi in Dacia! In Dacia dovete lasciarmi! Un oggetto volante incredibile! C'è una macchinina, prego! Marco, sbagliato dai! Ma però che adesso è sempre il mio! Ho trovato il video, ho trovato infatti! Moro, sei per favore! Mi sono trovato il video! Sono fuori dal tunnel, sono pirna! Buon Natale, grazie infinita signore! Grazie, grazie! Grazie Lallu! Tu spammo! Grazie Lallu, grazie Ricky! Grazie a tutti due! Mamma mia, se non mi piace Yoshi! Ma io sono morto! Olu T6! No, non mi piace come si usa, non in generale! In generale è bellissimo! Ah, ah, potrò andare indietro! Porca miseria! Grazie mille Olu! No, no, ma esteticamente come personale è peggio anche a me! E su Smash che non mi piace! Gli spacco la faccia! Gli spacco la faccia! Gli spacco la faccia! Ma cos'è quel cacchio di sole che fa avanti e poi va indietro? Una pregunta! E poi una pregunta! Sono nuovo! Aia che male te! Aia! Eh, friendly! Avete le stesse vite! Perché non sto giocare io? Ah! Eh, ma i bifoots se avessi visto era casuale prima, non lo abbiamo scelto! Vabbè, vabbè! Morelli, cos'è questo coso? Bello! Ah! Cos'è quella spiatura? Stiamo facendo casuale! Siamo matti Morelli? Oh! Oh! E basta! Pistoglio di merda! Vai via, vai! Aia, vai via! Aia, vai via! C'è una sceglia volante! Ah, no! No, no! No, no! Vabbè! Vabbè! C'è un... Porca vacca Morelli, ci ho parlato! Ah, cos'è?! Oh! Eh! Ma non le vale! Eh! Eh sì! Aia! Arrivederla! Ma scusa, ma cos'è sta roba? Eh! Che palle! Ma ora forse hai messo massimo 4! Sì, adesso ho il massimo 4 che l'ho modificato! Non è vero che ho vinto io! Ma non lo modifico, gatto! Perché ho messo... Ho messo 5! Sempre! Magari non ci dessi gli stessi personaggi con la stessa skin, adesso sarebbe utile! Cazzo, il pack che l'ho venuto giù e se l'ho morto anch'io e tra le volte se lo vorrei! Eh sì! Allora, aspetta che come si modifica... No, è vero, non c'è cosa! Uh, per me! Basta! Me l'ho cambiato io! E si modifica! Come fatti a cagliato! Non devi mettere pronto! E devi usare la pagina probabilmente Carlo! Perché se... C'è che non ha messo pronto Morelli! Tu non hai messo pronto! Guarda, tu sei proprio fuori dal... No, ti ha detto di non mettere pronto! Ah! Eh... Bisogna rifarlo proprio! Ma che testicoli! Eh non farlo Morelli! Gatto, mi dispiace! Dai! Gatto, se vuoi venire vieni anche su... Ci due anni poi... Ah non si può fare! Non si può fare! Non si può fare! E allora Morelli! Eh... Massimo... Incontro a 4... Incontro a 3... 1v1... E mischi a squadre! No, forse 8 era nel... Il locale! Eh... Sì, non si può fare... No, dice di fare a squadre, Gatto! La mischia a squadre, eh! Si può fare... Eh, ma siamo in dispari! Eh, ma siamo in dispari! Vabbè, tanto lui è più forte, mi sa, di noi! Siamo... Dai, facciamo il team dei Marco! Gatto, sto con te! Ma non fare! Certo, se vuoi sapere la password, devi entrare però... Almeno in stanza! Ah! Ah, ok! Tiri tiri tiri! Anche nell'altro possono giocare quattro persone a turno! No! Teoricamente possono entrare per solo! Non volevo parlare! C'ho un naso tappato, c'ho! Vi rompi palle che siete! E vorrei fare una segna! Non si tappato qua! Ma è la password! Te la dico a voce, Gatto! Eh, da che adesso vi sto sentendo anche dalla live! Chiusi di S, muovete lì! Ma ho capito, eh! Non possiamo giocare in più di quattro contemporanea mea adesso! Ma che merda, scusa! Eh, è quello che stavo dicendo! È a rotazione! C'è la coda, però non c'è... Scusa, non ci potevo mettere anche... Nell'altro... Non ha squadre! Eh, ma a squadre è meglio perché almeno giocate contro di me! Fine! Grazie mille, Mr. Simon! Grazie, Simon! Grazie, Simon! Simon, Simon! Eh, hanno capito, Gatto! Non funziona! Perché sei pirla, eh, Sprint! Bastava stare attenti! Ho capito! Non si può giocare in più di quattro! La squadra... In squadra noi... O possiamo giocare uno tutti contro tutti! Ma hai cancellato la stanza, Amoro? L'ho riparta! Amoro, ma io a te non possiamo giocare! Ma io a te non possiamo giocare! Possiamo! Possiamo! Non è vero, sta caricando all'infinito! La stanza è piena! Eh, sì! Vogliamo andare adesso a giocare? La stanza è piena, ragazzi! Scusa, Marco, non è più stanza piena! Ma hai creato la stanza da più di quattro, scusa? Eh, no! La stanza è da mischia! Ma io avevo più gente di quattro persone in stanza, so sicuro! Probabilmente creando la partita, no! No, però c'è scritto tre su quattro nella stanza, effettivamente! E comunque non è pieno, Marco! No, no! La stanza è piena, mi dici a me! Aspetta, appena finisce il mio caricamento infinito la faccio io! Tanto fa vedere se stai a riuscire a fare gatto! Non è che un gatto c'è spetti diversi! Ho capito, fai caccare gatto! Mi sono offeso! Eh, Morelli! Lo stesso problema del solito! Ma non ne scusa! Con gli altri l'ho risolto perché... Ah, perché ce l'avrai anche tu! Che cosa? È il problema! Grazie mille, Parker! Ma no, è vero! Io non ho mai avuto problemi! Tu hai cambiato connessione e tutto e hai avuto problemi! Lo avevi giocato solo allora, ma che vedi? Guarda! Aspetta, crea la stanza! C'è se sono amici! Mischia la squadra! C'è un problema, l'ho risolto però! Mentre poi hai metto Morelli! Io come l'hai risolto? Guardo, io guardo! Eh, ma guarda! Bravo! Postando l'IP nella switch, modificando la connessione nella switch! Finchia che palle! Non ho voglia! Sono il prompt dei comandi su Windows! Buongiorno Shadow! Io non ho... Non ho dato! Io non so! Bene, ok! Non so come si crea per più di quattro giocatori! Io mi ricordo che ero dei più monster! De Davian! De Davian! De Davian! Ah no! Pensiamo di aver perso la street! No, meno male che hai 27 mesi, insomma! Eh no! Hai un bel problema! Eh, ma tanto, Gatto, trovi che risolvi tu il problem! No, vabbè, non importa! Addio! Addio! No, Gatto! Vi vederla! Salve! Lo ritraiamo! Mischia! Mischia! Buongiorno Giulia! Buongiorno! 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 La partita sta per iniziare! Eh, ragazzi! Non dimenticate di perdere la streak! No! Dovete perderla! Non dimenticate! No! 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 Sbagliato! La password ha un 5 in meno! Ok! Però... Piripiri 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 Eccola! Quattro dita! Quattro dita andava bene! Ma che sembra che non abbiamo bisogno da fare? Scusa, vai! Ok! Preparati a combattere! Marco! Impossibile cedere alla stanza! Ok? Hai sbagliato sicuro la password perchè non hai ascoltato! Lo dico io! Oh! Sicuro al 100%! Perché c'è un 5 in meno del solito ha detto Moro! Finno! Ho scontato perchè sono tossegni! Bravo! No! Ha detto che sono tossegni! Non sento perchè sono tossegni! Non sento perchè sono tossegni! Eh, per forza ti droghi! È vero! Se non ti curi ti puoi un pugno! Guarda! Nella gola! Cosa ti vuoi? Ma l'ho spruzzato per la gola! Ma l'ho spruzzato per la gola! Se sono 6 mesi che non funziona! Bene contenitore! Bene bene! Ma fatta che c'ho da 5 giorni a tosse! C'ho da 5 giorni! Ma che da 5 giorni! C'ho da 5 giorni a tosse! Morelli! Allora io sono sicuro che in America c'avevi la tosse! Si! E non te l'hai mai passato! Ma che ne è che mi hai arrivato la tosse per la settimana e basta! Ma stai venendo su un ring che voglio giocare! Non si credo! Veramente! Stai... Oh! Stai proprio io! Come hai fuggito il mio corpo, no? Si! Sei una sega come funziona il tuo corpo! Saresti medico! Si! Sono medico! Ma che palle sono gialle! Medico dei miei coglioni! Ma che palle! Ma rob! Ma è Wally! Ma sono rob! Ah guarda l'ha appena sbloccata questa qua! E io sono Sonic che l'ho sbloccato ieri sera! Non so come si usa però, che si usa completamente a caso! E io so fare questa cosa! Questa cosa so fare io! Cacchio! Che è? Invecemente! Bastardo! Cos'è? Ah ah ah! E che voglio prendere! Ho lanciato un... E che brazil! E che brazil! Parto! Mi avete schizzato! Allora una... Ma che lag! Ma che lag! Eh si! Eh si! Eh no amici! Eh vabbè! Però non sto... Però non sto lancando! Eh vaffanculo! Eh ma non puoi stare si vede! No! Aspetta! Ho avuto un sacco di punti perché... Eh lasciami! Eh eh! Ma non dirle cazzate! Vevo che espro che invece dicele cazzate! Eh si si si! Ma non so come si gioca adesso! Io non lo faccio adesso! Adesso ho le carriere... E' quello che... C'ho fatto! Staccati! Adio! Eh vabbè! Ma come fanno? Guardi un secondo te! Non capisco un cacchio! Probabilmente! Ma non mi danno il tempo! Arrivo! Yetar! E lo so come hai tu! Tu hai già fatto bene! Guarda! Non ci chiamo nessuno bene qua! Certo non è un bot! Ma è questo! È un bot! Spagno che faccio! Sbaglio che faccio! Mettisolo nel culo! Mettilo! Ma dove c'è? No! Oh! Marelli! Ok! Dai vabbè ti prendi il nuovo! Eh no! Eh no 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 no! Schizzo! Ma dai! Bastardo ma le c'erlo da stupido! Ma mi siamo buttati! Ma basta non suicidarmi di nuovo! No no no! Ma no! Ma dove sei finito? Ma dove sei finito? Ma dove sei finito? Scusami! Non lo so! Non me la minima di vedere! Se io non ho diventito in pieno invece è giocato tutto! Ma è possibile! C'è qualcosa che mi pergo! Marco! To 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 to! Questa è una prenduta! Sii vabbè ragazzi mi sono suicidato due volte! Due volte mi sono suicidato! Non ce la faccio proprio! Relli non so giocare io Perdo sempre perchè mi ammazzo io E' un cazzo No niente non farlo Arca puttana Non male fruttissimo Puttana Non funziona qua Chi è? Oh tre volte Marco sguardo anch'io Marco sguardo anch'io Mi sono suicidato tre volte su tre Oh incredibile non ce la faccio Porca miseria sono proprio stupido Non riesco a star fuori Piripiri piripiri Caputana Ma non salta dopo Dopo non salta più Io spero che tu ci puoi alti Ho vinto Spandolo Ho vinto Spandolo per caso comunque E' sta cosa incredibile Eh ci siamo uccisi tutti Eh ma ci siamo uccisi Perché sei caduto Io ho eliminato due persone comunque Nella mia stupirazione Non ho vinto un cazzo di cosa è successo Nella partita Vediamo chi saranno i prossimi concorrenti Pit Ah sono il Shulk Ah Shulk Ah Shulk l'ho trovato adesso Pit Pit Shulk Sono tutti uguali comunque Pit Pit Dove cacchio siamo? Ah almeno non si può cadere Ah almeno non si può cadere Cosa ha detto? Un ninni ha detto Un ninni Dimmi Dimmi Ti è ti è tiè Anna Ti taglio per gli ali Ma da un minotto L'ho usato prima della live Una volta Quindi non ho usato Ho vinto che era difficile Poi Io sono starcino Ma è possibile che la starcino ha avuto 3% Ehm 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 Aia mi hai vestito da macchina Porca mignotta Ehm Toh ho la bocca con lui Toh Cos'è? Oh! Ma siamo stupidi Siamo stupidi? Oh! Aspetta fammi fare le mosse che non le conosco È matto Ho visto la mosse speciale Aia Sono volato via Ma l'ho mancato Ma che signore Ah no! Oh! Ho mancato comunque Ma che signore Eh non le conosco Ma c'è due mosse Waluigi Ma che fai Waluigi Waa 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 Mi ho già eliminato i due E poi come ero da solo Non puoi perchè non si può cadere È una bomba Non capisco un palco Ehm Sta fatata Scusi ma Ho vinto C'è Waluigi che erano peccoliosi Carimus Carimu Ahia ahia Siamo capisci, anche noi che stiamo giocando, lo stiamo... Aia! Sono volato via, io! Mi pare la prima scuola, ma con il mio frizzino! Scusi, vado via, eh! Non c'è quella palla, è gigante! È una sorpresa, quella! Arcatore, io! Ho lo scudo! Bomba! Toma rosa! Eeeh... ci parli, vabbè! Non me prende, però, ok? Marco, non farlo! No, la mia Pokéball! Ma che schifo, Marco! No, da cosa mi è uscito! Per l'osso... Ma sono addormentato, per l'osso dei miei coglioni! Anche io! Vabbè, no, ok! Però no! Oh, sì! Mi escondo! Non capisco niente! Dai! Passiamelo, eh! Eh, ma cosa vuol dire? Marco? Non vedo niente, ragazzi! Non lo so! Eh, non lo so! Eeeh... non lo so! Ma che... Ma che... Ma che... Ma che... Ma che... Ho eliminato un altro, è un fortissimo, ormai! Ma io è quello! Ah, io è quello! Che cazzo è, era quello, scusa! Ma fortissimo! Sono stupido, ragazzi, scana una sola! Ah, la macchina mi ha spafatto! Cos'è, è fortissimo... Ah, hai capito? Ma che pugni mi tira! Eh, lui è foda! Nooo! 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 Ahahahah... Non è fatto! Nooo! Niente! Non farlo! Nooo! Ma dove sono io, ragazzi? No, dai, che liso! Ah, ero a destra, non mi chiedeva. Ma vengono per te. E' un po' a, ragazzi! Non so i tasti, ho tutto a caso! Tutto a caso! E via! Aia, la macchina rosa! Ma che senti fingendo, scusa! Ma che senti fingendo, scusa? Non c***o, chiedi Bob Ross, vai via! Oh, adesso mi stai prendendo! Ero confuso, tanto da colpirmi la sua! Ma cosa... Non vedo niente, Morelli! Aia! Sono veramente forte in questa partita! Eeeh! Mi sto eliminando tutti! E io dove sono? E poi ha fatto questo, Marco. E mi vuole un po' cadere, Marco, perché stai vincendo. Aia, ho caricato ben tirato, scusa! Ho tirato fortissimo! A Menara son bravo! Aia, il buco nero! No, nero no, Marco! Non mi lascia stare! Aiuto! No! No! Ehi, Vulpix! Allora! Che palle! Aia, Marco! Un po' tasto! E io... Mi spingo! Fuori! Ho detto fuori! Con un whatsapp! Marco! Lo devo fare! Jump! Jump! Sono uno! Voglio quello! Sono uno! Io lo voglio! Vai via, Marco! Lasciamelo! Lasciamelo! Aaaaah! E va via! Non l'ho preso! Non l'ho preso! Nooo! Lasciamelo! È mio! È mio! E dove fuori? Possibile! Favanti! E poi vai di dietro! E tu vieni in questo! Aaaaah! Ma tu devi stare esatto! Cinque! Quattro! No! Ma è falla la macchina! Aiaiaiai! Ho vinto io! È il tempo scaduto! Buttana! Sì! Eh sì! 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 Meno male che non si poteva accadere! Sì! È normale il mago banana! Mi spiace! Non pare che forte perché fa palestra! 30... Da 30 dollari! Da 30 dollari! Magari! Magari! Saremmo ricchi saremmo! Saremmo pieni di grana! Formaggio! Sta caricando a me! Perché si chiede la grana! Io non mi ricordo dov'è! Eh! Pettivamente sì! Cazzo è buono! Perché non mi fa vedere quanti sono? Ok! Mi ho fatto vedere! Niente! Scherzo no! Dai che adesso sono Ryu! Sicuramente! Uuuuuh! Guardi! Ma siamo dello stesso! Ma perché ci mette dello stesso colore? Ma perché c'è un Pikachu cappellino? Cosa c'è la roba? Ma io sono un piccolo Pikachu deficiente! No! 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 Pikachu non è male se lo sai usare! Oh! Cosa è successo? Ecco me tutti! Sto prendendo danno senza colpire nessuno! No! 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 Che spazzata! Amici sto ruttando! Beh allora! Ahia! Non l'ho fatto! Ma chi è sti fulmini fuori? Scusami! Ahia! Lo vanno ti tricolpendo! Ho capito ma sono resti tricolpendo! Sono già morti! No! No! Ti rutto in faccia! Amore! Amore! L'ho visto! Io l'ho visto il lag! Era molto interessante! La mia parte è intollerabile! Sono sotto! Ma perché non devo andare? Quello è mio! No! Niezzar! Non farlo! Non so come funziona! Niezzar! Sei molto attento! Vai! Che succede? Non so chi sta colpendo! Amore! Amorelli quello! Beh ciao! Ah! Dove sono ragazzi? Ok! Ma i bastardi! Eh! Vai su! Porca puttana! Eh no! Ma che lag! Eh! Eh! Ehi! La preginta! E' vero! Lagavo mentre combattevo! Scusi! Che mi ha preso? Scusi! Dai! Dai Marco! Mi ha dormitato capale! E' allora! Amorelli mi diceva 4 vite poi! Mi ha messo il corto uomo! Si! Vabbè ma va bene! 4 vite ci sta! Vabbè almeno mettiamo un po' di più! Sì ragazzi questa partita però è ingiocabile! L'ha veramente tanto! Ma so per te! Si! A volte lag! Chi è? Chi è? Grazie mille! 14 metri! Mi auguro un buon anno ma state attenti alla quale che stiamo volendo spassando... Ah! Eh! 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 Fuori! Quanto amici! Persì! Mi caccio unicola! Non è quello c'è! Mi ammazzo! E' col cappellino! Ah! Stia che botto! Non può fare il culo! Si! Mi hanno sbloccato pochissimi... Cosa ha fatto il trombone? Io l'ho sbloccato una ventina ad esempio! Eh però sono sempre diverse che sarai! No infatti per ora... Vabbè! No ma anche io sono sbloccati un po' No ma anche io sono sbloccati un po' Anzi te lo muovi mi saprei! Aia! Marco ti devi stare tranquillo! Oh Marco! Ti devi stare stare! Oh! Oh! Sei scemo! Aia! Dolore! Ma a me Bowser mi fa proprio schifo comunque! È veramente un caccone lento! No che si ha preso questo pacchetto! Chieeeh! Lo lascio farlo! Ma dai quello di Shovel Knight! Si lo lascio farlo! Si! Vi spalla la meraviglia! Aspetta! Vai via! E cosa succede il Wimbo? Aspetta! Chi è uscito? Strami! Ha scelto anch'io! Allora non mi vedevo più! Mi vedevo! Non capivo se l'ho finito, ma capisco che c'è un piccolo! Amore è stato eliminato! Io sono stati in due! Ma da mo' che... Ah, non me ne ho apposto! C'è stato un casino! Ma questa è la spada! Eccolo! Si è infilato proprio nel mezzo delle cose! Che cacchio! Tanto vinci tu che sono già al 124% Marco, non ti abbraccio! Ma no, non so, mi fa proprio schifo bolla! Marco, stai zitto! Arrivederlo! Cioè, unicamente i colori diversi erano! A caso gli dà! Eh sì! Eh no, ma ero a 124 al primo colpo! Tu potresti avere anche un personaggio con un culo diverso, anche se adesso io! Con un culo diverso? Con un culo diverso! Non avevo capito perché! Eh no, sei gatto, bisogna sbloccarli un po'! C'è il metodo per sbloccarli velocemente, ma comunque... Ma non vuole fare i metodi già! Io sono un citatore di merda! Ma non è citare! Ma chi se ne frega, per sbloccare i personaggi! Ma fatti, lo faccio! Ma poi il fatto è che devi anche abbattere! Aspetta, provate a farla... fatela voi la stampa! E falla Marco, falla tu! Eh sì! Aspetta! Aspetta! No, esatto! Gatto! Ah sì? No, ma c'è anche il metodo di... Allora... Moro, cosa devo cambiare? Di queste cose? Delle regole? Oggi... Le regole... Metto... Vite 3... Tempo 2... Allora, se fai... Vite 3... Tempo 2... 30? No, io c'ho vite 4... Tempo 5... Allora... Tempo... Tempo mentalo... Come si fa a modificare qua? Click... No, non serve gatto! Ah, modifico! Non serve! Non serve a spegnere la console... Tu fai la sfida col personaggio... No, basta che... Chiudi il gioco... Basta che chiudi il gioco... E continui così... Beh, sinceramente... Non serve... Ma devo mettergli un nome alle impostazioni? Non serve davvero, semplicemente gli sblochi... Vabbè, semplicemente per fare... Prima... Non è che... Eh, per fare prima, sennò veramente... Poi Marco, fai anche impostazioni avanzate... Voglio! Qua è che oggi sono rubati 4 in 15 minuti... Quindi è possibile che... Dove essere 4 a scelta? No, no... Oggi sono rubati... Dai... Dov'è l'impostazione avanzata? Ah, ok... Ma che giocatori 4... Tenario a scelta... Spirit no... Chat vocale no... Ok... Ti fai conto che io... Ogni volta il primo... Un... Un ripostaggio che avevo già... Mi ha giocato un altro... La password è la stessa... Però... Si... Anche domani pomeriggio... Streammiamo eh... Esatto, domani pomeriggio sarà... La live speciale... L'ultima live dell'anno... Tenite amici... Ehm... Cerca stanza... La password era quella di prima? Quella di prima... Dovrei aver fatto tutto giusto... Quella prima corta... Quella prima... Ottimo... Ok... Sposta... Eh... Ti ho detto che è quella di prima? No, no... Quella di prima giusta, l'avevo detto... Tu di giusta... La prima o la seconda? La prima... La prima... Prima prima... Ok... Un altro subito... Guarda che... Guarda che sei veramente un birra Marco... P- Perché? Ehm... Perché lo dico... Ma porca puttana Marco! Ma scusami mi ha chiesto il nostro deficiente Scusami ama sai perché Ti dico perché perché è stupido nintendo ti chiede il nome delle impostazioni e quindi ho dovuto mettere tre cose diverse e mi ha confuso che ti chiede il nome delle impostazioni Il nome della stanza cosa vuol dire che devo mettere il nome alle impostazioni Oggi pomeriggio lo facciamo alla live No oggi ma domani pomeriggio Perché tante da qua mi se ne frega però Il pomeriggio facciamo il talk show facciamo domeriggio Ma che talk show? Ma scusami l'ultima live Ma no la facciamo all'inizio dell'anno Eh potremmo anche fare un po' di Rainbow Six un po' di talk show eh Ma quando? Domani Domani pomeriggio Scusami per i regali dell'anno Ma perché sono Kirby giallo? Scusa Ma perché sono Kirby giallo? Ma scusa che cazzo No lo facciamo mercoledì No anche perché C'è anche meno gente sabato che non siamo a palco Precato sono già ammazzato una volta E infatti l'ho visto di Tom Marco Ma niente dovrebbe di sfumare Sono dei personaggi di merda No ma esco il pacoso Oh Kirby giallo E ma non cadi Che non cadi Ah vai via bastardo Vedi ti spavate quella mossa di merda? Samo se non mi piace per niente C'è anche più tasti Non c'è solo uno eh Ah Oh Cazzo Ah Ecco Vabbè ma io ti sono distratto e non ho letto bene Però cosa vuol dire che mi fai mettere tre volte i nomi alle cose? Cosa vuol dire che devo mettere il nome alle impostazioni? Ma chi se ne frega del nome delle impostazioni? Marco va dire Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? No no non è lagge Noo l'altro sotto Spero Spero Comunque per adesso non sta laggando E dai la smetti di ridurre Era la connessione che bisogna Buon Natale grazie infinita signore Cazzi e grazie Grazie mille Corianno Grazie mille Corianno Ma te sei un difficile Ma porca vacca c'era un po' tempo Marco ti devi levare Eh qui sono Ti ho lanciato il guscio sui maroni Eh per forza è pieno di muri Senti Marco non ti sto andando nel tuo gioco più troppo oggi almeno Beh a menare sono il più bravo di tutti Perché non sai stare in partita? No non so stare in piedi Marco ho sbagliato tasto Ma sono andato da solo No non so stare in parte quale Oh No tu potevi header Ma cosa sei l'uomo Così tu potevi? Chi è l'uomo 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 Sono un campione del mondo Chi è Michael Chi è casuale Non è uscito Morelli braviglia E anche io esco, non adesso, fra un po'. Ah, Morelli! Magari per suicidio. Volare con me! Volare con te! Voglio uscire! Mattel è pochissimo! Aia! Dietro Muzi! Ho provato a togliermi, ma i comandi erano molto da lui. E li fermo davanti a me! Io no! Via! Via tutti! Ah! Patate, lampone, volare con te! Patate, lampone! Cos'è? La bomba Snow! Che pazzo! Aspetta! Che è successo? Chilo! Oh! Capo via! Oh! Rally! Non fatto! Non è uscito! Sono ancora qua io! Sono morto? Ma io... Ma tu che stava? Guarda c'è quello di... Alekirby che... E' il Tomb Raider? Era Tomb Raider? Che schifo di personaggio! Sono ancora più morti! Wow! Cabo! Che bello, eh! Non ho fatto più nulla! Sono morto? Oh! No! Gatto! Non so molto come si fa! Guarda la Ugo! Ma in spirit... Guarda quel Kirby! Quanto lo odio! Aia! Ebbava al culo, Kirby! Chi è rimasto? Allora, muore morto! Ma è morto! Ma è morto! Ma è morto! Ma che giallo l'ha messo? Questo è il discorso di prima! Perché hai messo giallo si fa da solo? Sono l'unico Kirby che mi ha messo giallo! Ho una pistola laser! Bravo! Mettetelo nel giro! Porca puttana! Sono la principessa! E io sto nell'angolino! E io sto nell'angolino! La prossima volta è che uno ha qui! Ma Rally! Lei ha visto cosa? Sei scemo? E' quello di... Di cosa? Di... E' quello di Samus! Ah! Quello è Samus tutto a zero! Ma hai bionda! No! Lesserino! Questo con verde! Quello non me lo ricordo! Tata tanca! Porca puttana! Aspetta! Ma... Aspetta! Il 200%? Non puntiamo fuori? Tanto non può cadere! A meno che non gli giugli un pugno cortissimo nella faccia! Aia! Sono ancora vivo! E' ancora vivo! E' ancora vivo! Sono andato fuori io! Non è toccandolo! Ma scusa! Niente! Sì! L'ho fatto... Cacchio! Oh! E' che cazzo! Non ancora vivo! Stop! Lo puoi sentire con la spalla? E' perchè ha saltato! No! Ha schivato! Ha schivato! Sono gli invincidenti fra me! Dai! Potre soppire! Vedete i tuoi poteri! La tanca! Scusi! Cosa sta succedendo? Che c'è? Sta pienendo un tempo! Iiii! Non la siete pare! Ah! 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 Fatti sotto! Ah! Sì! Che bo! Chi è Kirby del cazzo? Non mi piace tutto il Kirby! Ma! Adesso si deve! Quando mettono... Ma che dici? E poi questo gioco è spazio! Non parlare che tu devi star zitto! Io proprio trovo il martello... Piiri 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 piiri... Io voglio Ryu! Mi fate usare Ryu! No Marco! Siamo tutti giocatori d'azzardo! Cosa giù perché non stai gioca- non stai aggrande a me? Ok! Pronti! Pronti! Via! VIA! Vediamo chi sono i concorrenti di questa... La parte... Ma esco la parte! Ma esco la parte! Sono SAMU su terra! L'ho chiamata! Donkey Kong Samus! Ma io ho sbloccato un botto di prosaggine! Non posso dire che c'è arrivato quelli lì! Ah non è altro, che si di nuovo! Ti sparo, pam pam! Tip tip tip! Ai che dolore! Ma dai! Marco, non è possibile! Mi fate le mappe dove non si cade, sono fortissimi! Siete veramente dei bastardi, eh! Marco! Mi faccio la faccia io! Figà! 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 Mi ammazzo, adesso mi ammazzo! Porca putte! Tra la spada di fuego! Che non è di fuego, eh! Ah, Marco! Oh! Dove è sceso dietro? E' un gomitolo quello! C'è... Come si chiama? Zechrom dietro? Oh! Che cazzo! Oh! Ah, vai vai! Che è? Oh! Non è possibile! Il mio pugno non funziona! Chi è? Tutti fuori! Questa è il calcetto! Eeeh! Ma che fa? Che è? Rimmuovito! Che è? Eh, sono caduto sopra, sono qua! Che è? Ok! 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 C'è... Molelli! Sbagliato tasto! Sono vivo! Scusi, mi dava quello? Scusi! Mi dava quello? Ah, ma perché non...? Niente ragazzi, io continuo a buttarmi giù da solo... PPPPPPP... Io qui c'è bello, ma proprio ho avuto i coglioni Spalmo tutto! Spalmo tutto! Da ste a caso! Da ste a caso! Morelli! Morelli! Sbattono! Sbattono ma avvicinate che mi fate incazzare eh! Già mi girano i coglioni! Mandatevi le vie da qui! Con cortesie! Fuori dalle mie palle! Non sbazzardate qui eh! Non si può fermare un po' così! Hai capito? Non si può fermare un po'? Guarda che sono matto eh! No, ma dai! Ma che sta! Morelli! No, volevo farlo! Ok! Ah! Ma...eh... Ho incazzato nel terreno! Permesso, ecco! Ah! Ma io sto buendo con questo! Su, Morelli! Pa pa! Ma che è? Dai che già gli altri me le son tolte io! Fuori dai coglioni! Ah! Quello fa le mosse! Oh io! Eh, Morelli! Non è così che non sei morto comunque! Ah! Ok! Siamo ancora qui! Sì! Aia! Non è possibile, Morelli! Morelli! Ah, lo buttate fuori! Ma ora! Non è possibile che sta! Oh! Sono Donkey Kong! Oh! 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 Ma che succede? Oh! Oh! Ma non mi è uscito anch'io però, forse! Quasi! Sto! Che c'è? Basta! Ma che fa? Ma siamo... Oh! Oh! Sono uscito solo io ovviamente dall'esplosione! Oh! Mi è morto? Sono morto! Sono morto! Sono morto! Sono morto! Sono morto! Guarda che io ne elimino più di tutti ma esco perché mi ammazzo! Ma se ho fatto il fuoco sto giro! Ma avevo una frusta di fuoco che ho buttato fuori tutti a me una volta! La frusta di fuoco che ho buttato fuori tutti a me una volta! Sì! Poi non so se è una frusta esattamente o no! Non mi ricordo! Eh beh beh! Sì questo fuoco non c'entra la... Si chiamava di... No! Non mi ricordo come si chiamava il posto! Aio! No! No! Che pugno dei denti! No! Una vittoria! Adesso sicuramente mi esce Ryu! Guarda adesso mi esce Ryu! Sicuramente! Stai zitto Marco! Magari sei evito di uccidermi! Eh Marco sarebbe una cosa molto bella da fare! Eh mi piacerebbe giocare più che l'altro per quello! Eh immagini! Marco io credo in te! Nel cuore tuo! Marco! 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 Chi ho preso? Ma chi? Eh perché c'è Yoshi rosa? Perché? Non ci sono Yoshi rosa! Non ci sono Yoshi in partita! Dammelo verde! Eh spirit attento a cosa chiedi alla chat! Honey! UNATBUS! VIA! Ma chi' è! Un Yslet the wastage qui! Uhhh! Un po' liberare! Deyuh! Ma sto aperto, sono morto qui Fate via, andà Tie 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 Via Oh, lo spara, Mark, lo spara Ma che fa? Tie, via tutti Aia Non puoi giocare No, non lo fate È la Pokéball, la Pokéball Forello, farlo Forse l'ho lanciata, no Ma guarda che Perca miseria, che botte che vi ho preso! Via! Troppi! E dai! Aia! Due due sotto! No, chi è? Ma che palle! Ho guidato la mappa di due metri quadri da Yoshi, porca macchia! Mi hai spaccato a merda! È fatica! Non è male che potrei vincere voi due! Potrei vincere voi due? Eh? Ma c'è la pancia! Ma te ne hai fortissimo! Guarda che ci sono i miei compagni che ho voluto andare fuori! Oh! Dai! Dai su! No! Dai giù! E dai! Oh no! Ho spaccato la mappa! No, 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 no! Pene, pene, pene! Quemo, no! No, ma perché non l'ho sbloccato? Sieee! Uru Ru! Ti veloci, ti veloci! Ma bubba! стоит più veloci! Ponelly, aspetta! Sta' attento Morelli! Non l'ho preso! Yeeeeh! Non credo vivo! Marco sei nel motorino! Aia! Via un po'! Yeeeeh! Non ero valido comunque! Mi son rifatto, mi son rifatto dai! Mi sono anche suicidato due volte, lascia stare! E' un Legend Killer, giocavano a ping pong con il mio guscio! Ma tu sei un grande stronzo! Ma tu sei un grande stronzo! Tu sei un enorme fece! Ma adesso vieni da P che gioverai! Io voglio Ryu! Adesso è sicuramente Ryu ragazzi! Vai! Guarda eh! Vi faccio vedere che sarà sicuramente Ryu il mio personaggio! Invece è... Sonic di nuovo! No chi è? Fox! Adesso è il che? Sembra di... ...i posti che non ho risposto a nessuno! Ehm... Come si chiama qui? Che... Mappa terribile! Dovrebbe essere sempre! Ma no questo è un mapa di mezza! Mamma mia! Questa qua è proprio brutta! Mi ammazzerò e basta qua eh! È velocissimo! Oh oh! Andato che Sonic qua! Sono... Ah ok! Primo suicidio! Vediamo quanto arrivo eh! Ahhhh! Vai tu Moro! Vai! Oh Marco! Dai! Oh oh! Ma non c'entriamo niente io! Niente! Scusa! Eh beh eh! Eh beh! Quale che qua Sonic fa la ruota ma vado fuori se mi col... se rimane! Peppene! Marco! Secondo suicidio! Non sto coprendo via! No! Ho un bagliato! Ho un bagliato! Chi è Morelli? Sei scemo? Si! No! Fermo! 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 Morelli! Ormai mi sono preso! Se finì! Dopo cos' sono sti spermini? Aia! Del calcio Marco! Guarda che... Con un maghetto! Con un magheggio! Mi sono laser Marco! Eh padre! E' un Scusa? Vado a non farlo! Vado a non farlo! Eh! Lascia lui! Vado a non farlo! Pardo! Sto qui! Sto qui! Sono a posto! Nel momento che saltavo io non mi avevo dei peni comunque! Continuo i peni comunque! Esatto! Coltivi i peni comunque eh! Sì sì! No il sacco di cacca! No ancora mi son buttato giù! Ma basta! Lasciamelo! Non è possibile! Morelli! Morelli! Io sono morti! Chi è? Non so lì! Perché? Ti avevo messo io! Oh sono già ingrantesco! Sono già ingrantesco! Oh di pari! Ma devi stare tranquillo questi cacci di... Oh di pari! Oh di pari! Caracca miseria! Sono volato giù di nuovo! Niente ragazzi! Ma se mi è arrivata la palla di merda mi è arrivata! Eh non ce la faccio! Non ce la faccio! Devo ammattarmi! Ho questo istinto! Aspetta! Aspetta! Quattro chi... Quattro suicidi! E' veramente vergognoso! Io vi chiedo scusa! Perché non sono capace di usare non morano i miei suoi tasti! No Morelli! A posto! A posto! Guardate quattro vite! E' un deficiente di merda che ha quattro vite! Ho capito! Sono grandissimo! Guardate il zitto! Guardate il gruppo di quelle panchie del cavolo! Bella bro! Ma che so sti spermini poi! Mi disturbo! Ma che ne so io! Come sta l'app? Un po' dei deficienti! Marelli! Stai lì a posto! Ho vinto! Un po' dei deficienti sto qua! Guarda Corvo! Lasciamo perdere! Facciamo una mappa dove non si può cadere? No! Guarda adesso! Adesso lo sento! E' Ryu questo qua! Io lo so! Ecco poi l'ultima la facciamo con quelli che ci piacciono! Ma io ne uccido un sacco! Però se poi mi ammazzo faccio cacare! Chi è che è grassato ragazzi? No! Perché è carica! No! Ma tu vedi sempre caricare il tuo! Non è che sei tu! Chi è? Zenda! Ma favo il trailer di Usi! No! Morelli non puoi avere quelle! Fortissimo! Tre! Due! Dobbiamo fare Agia! Non la so usare! Non la so usare! Agia! Allora! Che cuno! Ho che mossa! Spammo! Spammo! Agia! Gli eventi! Per i crampi dovete mangiare molte banana che contengono potassio! Allora! Ma... Che ne hai pratica? Gli altri vitamine fanno sempre bene! Niente! Che sei il trainer! È successo? Sì! Ah, io sono morto in qualche modo! Però non mi sono suicidato! Lo so! Anch'io! Ho perso la vita! Non so come ho fatto! Io non mi sono suicidato! Non so! Dammi quello! Da dove sono? No! Scusami! Mi ha scappato! No! Mi ha scappato! Mi ha scappato! Mi ha scappato! Ma sono uscito di fuori! Che io ho colpito! Non è possibile che sono uscito di fuori! Non avevo trattato la percentuale altro! Polla il bordo! La pokeball! Voglio io la pokeball! Ma l'ho buttata giù! Ma l'ho scogliore! No! No! Così non è! Così! No! Così! Oggi no! E allora però! E' uscito il guardiano! Gli fai... Caricare! Non risalto! Non risalto! Dai! Stai tranquillo! Devi stare tranquillo! Devi stare tranquillo! Devi stare tranquillo! Guarda quanto spamma! Ti ammazzo! Non ci stai! Guarda quanto ci stanno! Vedete le raccolti! Guarda questo è il nostro! Eh! Il ponechito! Ahhhh... Omm... Ohhhh... 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 Ahhhh... Ahhhh... Ehhhh... Ohhhh... ahah statiADden dai aharelli aiuto que dolore nooo Oh sto bene eh Morelli... VARACA empieza voglio morir Aspettate! No! Non è così! Così! No! Così! E va bì! Sto caricando! Ma vero! Non stai caricando! Sto caricando! Non fa niente la caricatura, non mi hai dovuto fare solo i dati adesso AIA! Mi togli un culo Marco! Certo! Molto gustoso! Che gusto! Eh si! Morelli! Sanpei! Che c'è scusi? Mica sono Morelli! Adesso abbiamo cambiato! Quanto pare lagga lo stesso! La percentuale di lagga c'è lo stesso! Di lagga c'è lo stesso! Guarda su me! Perché nel 2018 che devo star la partita io mi sembra veramente una cazzata! Ti spacco! No ma credo sia comunque i cosi della Nintendo perché che fa anche la cara perché la campionazione va benissimo! Ma com'è quella mossa che sto facendo a volte? Oh Marco! Ok! Appanza! Antani! Non volevo fare questo! Lo volevo io! Lo so il pong! Ahia! Non voglio fare quello del fuoco! Voglio fare l'altra! Porta tutta! Quello! Che dolore! Ah! Non sono peso! Ma mi fa fare! Ancromaria! Silberto! Ma scusa! E' andato sopra! E' andato! Io ho visto andare sopra al... Eh ma si è passato attraverso il coso! Erano quei cibiati! Ho capito! Ma non è partito un guccio! Ma se lo fa vivo! Facciamo sesso! E' andato! Fa volare! Ah! Ma è caduta la squadra! E' niente! Fa! Marco! Dio! Sì! Mi scusi? Superball! La voglio io! Ah! La Master Ball! Vai! Guardiano! Non me la prendo! Morelli! Morelli! Guardiano del Papa! Morelli! Morelli! Guardiano del Papa! Sì! E niente! Non sei visto che Pokémon è uscito? Che palle! Che palle Zelda! E' una presa! Ah! Sono proprio carina! Ehm! Guarda! Un Zelda di mattata stavolta! Sei migliorando eh! No! Forse una volta irritare! Non mi ricordo! Fa star male! Tu vedi! C'è due Zelda! Ha messo una bionda e una... No! Dai dai! Stiamo migliorando! Prego prego! Adesso è Ryu! Adesso è Ryu! Adesso è Ryu ragazzi! Adesso è Ryu ragazzi! Adesso... Adesso è perso! Cento per cento! Cento per cento! Cento per cento! Ma Luca! Ma che verde! Ma porca puttana! Ma io c'ho Mario Blu invece! Mario Blu! Io sono Link piccolo! Ma che schifo Luca! Il mio verde! Morelli! 3! 2! Ma fa schifo fa! Sia! Oh! Sei matto? Ahahahah! Chi è? Scemi! Questa è una bella bomba! Per voi! Allora va... Ve lo prendo tutto il mio! L'altra bomba! Un'altra bomba amici! Per voi! Ma vale! Oh Marco! Oddio! Oh Marco! Quello no! Ho fatto la faccia io! Guarda lì ho un giudolino fantastico! Aaaaaaaaaa! Tanto in questa mezza mi suicido! Soffetto a tenà! Che successo! Mi sono suicidelli! Voglio quello! Buon Natale! Grazie infinita signore! Grazie! Grazie signore! Che sbaldrona che sei! Che sbaldrona che sei! Gigi proiettili! Ma io dove cazzo ero! Grazie Gigi proiettili! Due mesi! Grazie mille! Vedo! Non vedo mai niente! Vedo! C'è... C'è... Espit calutti! Oh c***! Scusami! C***! Sono fermo! Eccola! Eccola! Naturalmente su di me! Ah! Ho preso anche me! Che palle! Ho preso! Eh che botte mi sono uscito! No! Sono caduto! Ma basta! Poi c'è altra mossa! C'è altra mossa! Dai! Faccio sempre più danni di tutto! Faccio sempre più danni di tutto! Ma dai! No vabbè! Moro dai! E' stato ridicolo questo! E' stato veramente ridicolo! E' stato veramente ridicolo! Ero a zero tra l'altro! Oh! Non mi dovete rompere il c***o eh! E devi fare le mosse per tornare su! Perché ci sono mosse che non puoi saltare... Passa! Eh no! Ma non funziona! Perché se sei sotto non sali comunque! E' il primo che sei sotto! Eh! Sono sotto! Ero sotto! Ma no! C'è che c'è modo che poter... C'è sì! Rally! Oh! Quanto grosso! Onda energetica! Ma te la prendiamo! Ti vengo a prendere a calci! Efficente! Sì! Ahhhh! Zimbari! Eh no! Mangiami il c***o eh! Sapore! Che posto mangiato! Marco! Sì! Stai tranquillo! Bisogna stare tranquillo! C'è un uccide Marco! C'è un uccide! E la bomba ve la tiro! Un'altra anche! Perché no! Un'altra! Ah sì! Un'altra! Ma te! Boh! Lasciami il pallone! Sono c***o! Marco! Marco! Sfiri le pestate! Animale! Ah! Maaah! Belli! Oh! Sono uscito fuori dalla mappa! Scusi! Io! Ahia! E' fortissimo ma è spotenziato! No 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 no! Ah ma sono jetpacker! Non c***o! Non c***o è bastato! Ma che lo sprechi! Oh! E' matto Morelli! E' matto! E' matto! E' matto! E' matto! E' matto! E' matto! Questa rosa! Santeresi moley boss! 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 No no no! Ma perché lo sta saltando? Lo salta più! Avevo posto più! Non è che salta infinito! Capito! Non avevo salto niente una volta! E' sicuro? Sì! E allora scappa da me! Mesh! No! Scusi Morelli! E' matto! A che c***o! Hayo! Eh niente! Giocatore 1! In azione! Quello è il mio, scusami! E' che ha tol pugno... Non ho visto! E dai? Si c'è già fa che cura di carità vabbè a pallino di carlo anche ragazzi ma cancosa amici facciamo l'ultima che scegliamo chi vogliamo sembra scegliere fuori alla della ultima Guarda Nero è là su, perché ha dovuto che soffi non c'era? Ma che partito? No, io sto scegliendo il personaggio Come si faceva? Passo a destra qua Ah, personaggio, ok Il personaggio preferito, porca mignotta Ora, io sceglierò No, scegliere il personaggio, ok Scegliere che non ho usato in questa partita, perché non ne ho un cazzo sbocato io E' usato tutti quanti, diciamo, i tre che ho sbocato io ho usato tutti quanti Mentre che ho sblocato, scusami C'è il personaggio sblocato e basta Io ti non ho mai usato Io ti non ho mai usato Ho detto Mi sono pregato Mi abbracciano ancora un Samus Hai detto ieri a chi? Stiamo tutti in a zero Ha 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 Vuto efficiente Guarda Sono Prego, prego Pronti? Che? Ah, finalmente sei Luca nel giusto Oh, Luca nel giusto Allora Marco che sono pronto Eh beh, si ho low Mi comando Marco, esci dalla partita Tanto, tanto mi suicido Anche se lo susare bene lui Dai qui non si può cadere Non può cadere Marco Perfetto Ottimo Per ora Per ora Puoi uscire Per ora Adesso cambia lo scenario Ecco 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 Perfetto Perché l'hai fatto? Eh non vedevo Non capivo dove ero Beh è lì Vedo io la ducca Spera Cut and putten Or you can Passate in te Eh si però No, ho visto che sono una palla da... Deficienti Ma è te, è te, è te Ammazzate Morelli per non perdere Michael Ma cosa ammazzate Morelli? Guardate a giocare bene Bastardo Ahia Ah non salta Ma ho provato Y Non ha saltato scusa Mi ha fatto dopo Ho fatto in ritardo Non va L'unico che so giocare Non so giocare Non so giocare Non so giocare Cosa vuol dire Solo perché non so giocare? Non so vuol dire Non so giocare Non vengono a perdere perché Un incompetente di merda Ti ho già addos dietro Ho visto Chesar se ti togli quella nube Ma è lì Ma è che non salta la nube Ma dai ma scusa Ma non è male Mi spostarmi Ma come ti stavo salendo? Ma scusa Io al solito mi ha spostato la lappa Ma lappa è come volendo Ma hai tirato un pugnetto piccolino Sono partito via Non avevo neanche il... E' quello lì che arriva Era quello di XY Non si chiamano Ma sono dove sono? Oh Non si capisce un cazzo Questo spara... Ma dai ma... Mi sono spostato Mi devo staccare la faccia Mi devo staccare la faccia Mi devo staccare la faccia Ehi! Ma quando lui spara i ragzi? Dal culo Scusami No, non posso caricare la mossa Eh? No, non posso caricare la mossa È difficilissimo Ah! Morelli! Ok Ok Morelli! Ok Pi, 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 pi Ma cosa faccia? Allora siete dei magnaili Mi scusi ma... Eh puto Mi è un po' così piccolo Mi riesco a vedere... Ma no Mi scusi? Aaaaaaah Ma no Ma no Mi scusi ma... Ma no Ma no Ma io ho bagliato Ma io ho bagliato? Aaaaaaah Ah, Morelli! Sono ancora in vita! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Zapdos! Perchè? Non è vero! Che volevo fare? Hadouken! 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 Marcos! In filo! Che schimata! Magomatia! Che schimata bellissima! Rendi! Madi che sei un cretino, sei! Saluta a te! Ma schimata dei denti! No! Non ci arrivo! Eh! Ma appunto adesso! Eeeh! Addirittura E quindi ma appunto adesso, cosa succede? Ohhhh! Mamma che bello, Ryu! Che bello, Ryu! Che bello il mio Ryu Che cacchio Maghetto Molto bella la partita finale Sì, è stato molto divertente Allora amici Noi ci vediamo questa sera con Ford King Non vedo l'ordo Mamma mia se non lo vedo Invece la vedo alle 8 di questa sera Ford King E poi per chi non dovesse esserci ricordatevi domani la live extra Alle 2 più o meno Esatto amici E poi vediamo domani Buona notte Ciao belli